Musica Ben trovati al Tgsel Aquila di oggi, apriamo parlando del Gran Sasso, la maggioranza comunale è compatta e presenta le sue proposte, in realtà frutto di mediazioni e sintesi di varie proposte che nel corso degli anni sono stati fatti, dopo anni di discussioni e di divisioni ci racconta tutto Giorgio Alessandri. Dopo anni di discussioni, dibattiti e scontri, più o meno al vetriolo, il Comune dell'Aquila, almeno per tutte le componenti della sua maggioranza, trova un punto di incontro da cui partire per iniziare a parlare di sviluppo e rilancio del Gran Sasso. In attesa che la regione approvi il piano regolatore del parco, a oltre 15 anni dall'approvazione del piano d'area, per lo sviluppo delle montagne equilane è stata trovata la cosiddetta quadra tra le varie anime del centro-sinistra. Pochi punti ma decisivi, come il mantenimento dei confini del parco o lo sfruttamento delle opportunità che arriveranno con il distretto turistico montano. Va in soffitta poi l'idea di sviluppo legata esclusivamente alla realizzazione di grandi impianti di risalita sui bacini sciistici, utilizzando invece al meglio i 18 milioni già disponibili, che segnano un buon viatico per intavolare un percorso con obiettivi a lungo termine. Abbiamo proposto un accordo che è stato accolto dal centro-sinistra, che è quello di parlare a 360 gradi degli interventi di rilancio turistico sul Gran Sasso. Quindi non si parla esclusivamente di impiantistica pesante, ma abbiamo parlato di sentieristica, di recupero di rifugi, creazione di nuovi rifugi, riqualificazione ambientale, rimboschimenti. Accanto a questo c'è la sostituzione della seggiovia delle Fontani, sulla quale noi ambientalisti ci eravamo detti d'accordo dall'inizio. E poi ci saranno altri interventi che il parco, attraverso le valutazioni di impatto e incidenza ambientale, ci dirà dove, quando e come farle. C'è stata un'opera di mediazione evidentemente tra le varie anime, anche nel centro-sinistra. Chi è mediato rispetto a chi? O che cosa? Le posizioni in campo erano quelle che si sono conosciute e sedimentate in questi anni. Chi riteneva di investire solo sull'impiantistica pesante e l'uscita discesa e chi riteneva di dover investire anche su altri interventi per un turismo estivo e a 360 gradi. Invece presente la regione Lolli molto faticosamente ha ricucito queste posizioni all'interno del centro-sinistra e con le associazioni ambientaliste siamo arrivati al documento proposto oggi. E ora andiamo al Gran Sasso Science Institute perché è in corso il terzo forum promosso dal GSSI durante il quale i ricercatori hanno presentato progetti e studi per pianificare la città del futuro. Immaginare la città del futuro, capire quali possono essere le potenzialità di un territorio che ha siani del sisma e ancora ricerca di una sua vocazione. Di questo e altro si è parlato nel corso della prima sessione nell'ambito del terzo forum promosso dal Gran Sasso Science Institute. Nel corso della mattinata gli studiosi del Centro di Ricerca Internazionale che ha sede all'Aquila hanno illustrato i progetti, incentrati su temi concreti come trasporti e conoscenza. La nostra sezione di Scienze Sociali, c'è il nostro dottorato di Urbastatis che è stato veramente molto attrattivo di studenti da parte di tutto il mondo e abbiamo selezionato naturalmente quelli più bravi e alcuni di loro hanno naturalmente scelto l'Aquila come tema di ricerca e quindi oggi stanno presentando un po' i risultati dei loro studi. E' molto interessante che lo facciano naturalmente di fronte al sindaco, alla rettrice cioè a chi poi rispetto allo sviluppo della città ha un ruolo decisivo e si sta svolgendo adesso questo dibattito, secondo me è un momento molto importante per poter poi fare delle scelte consapevoli sul futuro di questa città. Per il sindaco dell'Aquila, università e turismo sono tra le principali opportunità di rilascio del territorio. Un altro settore di sviluppo a mio avviso è rinforzare la città della formazione cioè richiamare studenti, parliamoci chiaramente qui un sacco di case ricostruite sono vuote perché non ci stanno più gli studenti questo presuppone un salto qualitativo importante della nostra università e attrarre talenti quindi con i centri di ricerca che vuol dire che dobbiamo fare una scuola internazionale perché questa è gente che chiaramente ha bisogno di una scuola internazionale per i propri figli e ultimo il turismo, io credo che qui non si sta capendo che questo è l'unico settore dove potenzialmente possiamo creare posti di lavoro ma mi sembra che questa è una città che sta perdendo tempo non mi sembra che sta capendo che è seduta su una possibile piccola, su un filone d'oro diciamo così, dal quale ritrarre dei posti di lavoro e ci si perde in chiacchiere Ora parliamo di banche e federcasse che difende la BCC la banca di credito cooperativo i ritardi nell'emanazione del decreto non dipendono dalla banca di credito cooperativo e da Federcasse arrivano anche i numeri delle banche di credito cooperativo radicate in moltissimi territori, compreso quello aquilano sentiamo Riforma banche di credito cooperativo Federcasse dice la sua, in riferimento a quanto dichiarato dal premier Matteo Renzi alla Leopolda il ritardo nell'emanazione del decreto non dipende dalla banca e Federcasse respinge la tesi che afferma che la numerosità e la dimensione delle banche costituisca di per sé un problema ogni BCC, parliamo delle banche di credito cooperativo sono inserite in un contesto locale come all'Aquila del resto dove è ben radicata e genera economie di scala nascerà con la riforma un gruppo bancario cooperativo e sarà il primo per capitali tutti italiani e il terzo per volumi complessivi Federcasse ricorda che oggi un cliente BCC possiede obbligazioni ordinarie messe dalla stessa banca garantite dal fondo di garanzia degli obbligazionisti e può contare su una garanzia che arriva a 103.000 euro aggiunta a quella di 100.000 riconosciuta per legge ai depositanti un numero significativo di consigli di amministrazione poi aggiunge non è un problema Federcasse ribadisce che la crisi non fa associata alle quattro banche il decreto salvabanche è una misura congiunturale e solo la coincidenza temporale è stata nefasta e dovuta a ritardi che non sono né di BCC e né di Federcasse le quattro banche portate a risoluzione ricorda Federcasse non erano né tutte piccole e né tutte di territorio e non erano banche di credito cooperativo le 368 BCC e casse rurali italiane con 4.450 sportelli hanno oggi una presenza diretta in 2.697 comuni compreso quello dell'Aquila e in 101 province con 1.230.000 soci e 37.000 dipendenti certificano una raccolta diretta di 161,5 miliardi di euro e 135,5 miliardi di impieghi gli impieghi delle BCC rappresentano il 22,6% dei crediti alle imprese artigiane l'8,6% alle famiglie il 17,8% alle micro imprese familiari lo stock di impieghi negli ultimi anni è cresciuto di 7 volte così come la quota di mercato media sugli impieghi si è raddoppiata e ora parliamo del giubileo della misericordia che si è aperto anche all'Aquila è stata aperta da Monsignor Giuseppe Petrocchi la porta della Basilica di San Bernardino vista l'indisponibilità a caso dei lavori della Porta Santa della Basilica di Colle Maggio sede del primo giubileo della storia di Papa Celestino oltre i 2.000 i fedeli che hanno preso parte a questa celebrazione vediamo oltre 2.000 fedeli hanno partecipato all'apertura della porta della Basilica di San Bernardino che ha dato il via ufficialmente al giubileo aquilano della misericordia dopo l'inizio a Roma del giubileo indetto da Papa Francesco un giubileo della misericordia esteso a tutte le città d'Italia l'indisponibilità della Porta Santa di Colle Maggio sede del primo giubileo della storia quella di Papa Celestino interessata da lavori di restauro ha portato all'individuazione da parte dell'arcivescovo Monsignor Giuseppe Petrocchi della nuova porta ad aprire per il giubileo della Basilica del Santo Senese scelta dunque come chiesa a giubilare perdonanza e giubileo della misericordia tale veste canonica certamente ha introdotto novità detto Monsignor Petrocchi mantiene però la stessa impostazione apostolica di base infatti entrambi gli eventi rappresentano importanti manifestazioni universali del Ministero Petrino le due iniziative dunque se non sono proprio gemelle risultano almeno sorelle quindi strettamente imparentate si capisce ha detto ancora perché noi aquilani che in buona compagnia con Papa Celestino celebriamo da diversi secoli la perdonanza siamo oggi in piena sintonia con Papa Francesco tantissimi fedeli che hanno voluto partecipare con raccoglimento e commozione a questa celebrazione aquilana dopo l'apertura della porta di San Bernardino all'interno è stata celebrata la Santa Messa le celebrazioni che hanno accompagnato l'apertura delle porte sante sono avvenute anche nelle altre sedi ocesi d'Abruzzo chi si ricorda oggi del genocidio degli armeni? un dibattito interessante questo inserito all'interno del cartellone dell'Aquila Field Festival che ha visto la partecipazione di giornalisti impegnati in prima linea e anche dell'ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia un momento di riflessione e dibattito sul genocidio degli armeni chi si ricorda oggi del genocidio degli armeni? un'iniziativa inserita nel cartellone dell'Aquila Field Festival all'appuntamento organizzato uno dei tanti tra le varie iniziative che hanno interessato tutta la giornata nell'editorium del Parco del Castello hanno preso parte i relatori importanti tra questi il giornalista Rai Pino Scaccia sempre in prima linea ma intanto il riconoscimento che non è soltanto un omaggio alle vittime a quel milione e mezzo di vittime soprattutto perché deve essere un monito per il futuro giustamente 22 paesi nel mondo hanno già riconosciuto il genocidio altri si stanno avvicinando degli stessi Stati Uniti probabilmente sono vicini a una risoluzione per riconoscerlo questo è un momento molto particolare molto delicato in cui bisogna ben distinguere qui non stiamo soltanto celebrando la memoria di una grande strage di un genocidio appunto il genocidio è una cosa diversa da una guerra è eliminare in maniera sistematica metodica un popolo addirittura tra gli interventi anche quello dell'ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia Sargis Garajayan intanto credo che non è mai troppo né troppo tardi parlare di un crimine contro l'umanità di un genocidio infatti specie oggi soprattutto è ancora più importante perché ecco sono convinto che i genocidi i crimini contro l'umanità devono appartenere ai manuali di storia e non alla cronaca oggi purtroppo stiamo assistendo a un riemergere di crimini contro l'umanità nella cronaca penso ad esempio agli asidi in Medio Oriente vittime di un'azione genocidaria vera e propria dell'Isis alle comunità cristiane nel Medio Oriente anche loro lasciate alla merce dell'Isis e ora il premio Polidoro la serata della premiazione sono stati premiati i giornalisti vincitori della quattordicesima edizione del premio intitolato a Guido Polidoro caporedattore del Messaggero scomparso nel 2000 un giornalista libero così lo ricordano sempre i suoi colleghi Guido Polidoro era un giornalista che quando andava allo stadio pagava il biglietto lo faceva perché voleva sentirsi libero di scrivere e raccontare perché era un uomo e un giornalista libero caporedattore del quotidiano il Messaggero scomparso nel 2000 e maestro per intere generazioni di cronisti viene ricordato ogni anno dall'ordine dei giornalisti con il premio Polidoro giunto alla sua quattordicesima edizione il primo premio di quest'anno è andata a Maurizio Di Fazio per l'articolo Il dolore di quei pazzi del mondo di sotto pubblicato sull'Espresso Online nell'articolo si descrive con grande efficacia espositiva e narrativa la vicenda legata al ritrovamento di migliaia di cartelle cliniche ed internati nel manicomio di Teramo nel periodo 1880-1931 un grande racconto del dolore e al tempo stesso una storia aspra della società italiana a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento Il secondo premio è andato Andrea Rapino con quelle combine tra Rosburgo e Acerbo che spaccò il fascio l'articolo pubblicato il 27 settembre 2015 sul centro nella rubrica Cultura e Spettacoli si narra la vicenda sportivo-scandalistica riguardante due squadre di calcio abruzzesi che nel 1927 si contendevano la promozione della serie cadetta a Paola Rubio il terzo premio con il servizio televisivo e flauti di Toscanini andati in onda su Antenna 2 si tratta di un mini documentario sulla nascita dell'Associazione Toscanini che ha realizzato un'orchestra di flauti composta da tutti gli elementi giovani e giovanissimi immagini e testo concorrono in modo pulito ed efficace a descrivere la genesi di una struttura culturale che si sta fermando nel panorama musicale abruzzese e nazionale questo servizio è stato l'ultimo lavoro mio e di Gilberto è stata è stata diciamo un'esperienza bella perché abbiamo diciamo avuto preso contatto con questa orchestra formata da tutti i giovani menzioni speciali sono state assegnate dalla giuria del premio ai giornalisti Fabio Sciarra per un approfondimento speciale sulla seconda edizione del Festival della Montagna 2015 e a Giorgio Dorazio per un articolo su D del quotidiano Repubblica dal titolo c'è un artista nel bosco il premio alla carriera è andato a Franco Farias su proposta del presidente dell'ordine dei giornalisti di Abruzzo Stefano Pallotta nell'ambito della cerimonia si è parlato di cultura con il convegno sul tema Silone e il giornalismo con Angelo Sabatini direttore di Tempo Presente Liliana Biondi critico letterario e Antonio Gasbarini scrittore e ora la pagina dedicata allo sport iniziamo parlando dell'Aquila Calcio che supera in un filale al Cardiopalma il Rimini battendo la squadra di Mister Brevi per 2-1 decisivo il gol dell'attaccante Salvatore San Domenico allo scadere dei minuti di recupero ora si pensa già però alla trasferta di sabato prossimo a Lucca l'Aquila riallaccia i fili e centra il terzo successo casalingo consecutivo scacciando in un colpo solo la delusione di Siena contro il Rimini finisce 2-1 in un finale da Cardiopalma con il gol di San Domenico a regalare tre punti a Rossoblu Perrone parte con il 3-5-2 gettando nella mischia dal primo minuto il duo De Sousa-Perna in porta gioca Savelloni in virtù della squalifica di Zandrini inizio in sordina del match che stenta a decollare al minuto 17 però passa l'Aquila verticalizzazione di Piva Perna difende alla grande il pallone dalla sinistra crossa nel mezzo e Triani commette la fronte per l'1-0 Rossoblu secondo gol stagionale a coronamento di una prestazione da 7 in pagella il Rimini non reagisce al trentesimo però annullato il gol a Della Rocca perché la palla è uscita sul fondo dalla sinistra risponde l'Aquila con Milicevic tiro a salve a conti fatti null'altro da raccontare nella prima frazione nella ripresa al dodicesimo l'Aquila sfiora ancora il raddoppio con il solito Triarico che si esibisce in una volée disinnescata in corner da Anacoura ancora Triarico showman al ventunesimo arma così il destro da fuori di San Domenico alto ancora la squadra di Perrona sfiorare il 2-0 stavolta da angolo ci prova Maccarrone di testa si salva di nuovo il Rimini in corner nel momento migliore però doccia gelata al fattori cross dalla destra intervento ma al destro di Maccarrone in area al volo grandissimo gol di Polidori appena entrato che non lascia scampo a Savelloni l'Aquila 1-1 Rimini 1 dopo il pareggio ospite l'Aquila si scompone perde sicurezza e il Rimini invece prende coraggio passano i minuti Perrona cambia a volta i suoi e nell'ultimo cambio si gioca la carta di Mercurio per il capitano De Sousa dirottando San Domenico seconda punta dietro Perna è la mossa da scacco matto in pieno recupero infatti Perna lavora palla spalla la porta in area imbucata deliziosa per San Domenico che ringrazia e fa 2-1 quinto gol in campionato per il folletto di Secondigliano e favore ricambiato da Perna all'amico napoletano dopo gli assist con Teramo e Prato finisce così l'Aquila chiude in bellezza almeno in casa il 2015 terza vittoria di Fidalfattori e quota 20 raggiunta in classifica e con questa notizia termina il nostro TG6 l'Aquila grazie a voi per la cortesia attenzione e vi invito a restare su TV6 per la consueta programmazione arrivederci a restare su TV6 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 Grazie a tutti.